Salve a tutti quanti, io sono Terrenas e benvenuti a questo nuovo video di Furi. Lo so che ci ho messo una vita per riportarlo sul canale, perdonatemi, sono stato una persona orribile. Più che altro mi sono chiuso sul nome in Sky, tipo, oh mio Dio, che bel gioco. Sono arrivati al terzo boss su Furi, per chi non era rimasto aggiornato. Questo gioco, per chi non lo sa, è un gioco d'azione in cui picchio malissimo tizi random e io sono una specie di samurai ninja del futuro, oh mio Dio, spade, la cose che succedono. E perché non ho mai visto questa schermata prima della... però ok, va benissimo così. Mi hanno detto, mi hanno detto che a quanto pare il terzo boss è quello più difficile dopo i due iniziali che sono abbastanza easy. Il terzo invece è abbastanza un figlio di puttana. Anzi, sapete cosa? Io lo faccio camminare da solo così che posso parlare tranquillamente. Basta che premo X per farlo camminare durante le... queste cinematiche, tra tante virgolette, perché non puoi definire le cinematiche. Nulla, a quanto pare il terzo boss sembra essere estremamente difficile. Sapete cosa? Io non mi ricordo i tasti. È passato talmente tanto tempo. Allora, basta vedere i comandi. Ok, il cerchio e la parata, 4 fredda... ok, perfetto, a posto. Mi bastava questo. A posto, so già tutto. Madrezza, la pace, la pace dei sensi. Ok, cosa mi stai dicendo, uomo coniglio? È anche lui nero. Come sempre, siamo bloccati qui. È una puttanata coniglio, ti dimostrerò che non è così. Te lo dimostrerò! È mondo reale altrove laggiù. Lo so che è laggiù, mi sto cercando di liberare, dannato coniglio di merda. Dammi del tempo. Ok, che momento zen. La musica è bellissima di sto gioco, devo dire che è veramente, veramente figa. Le piattaformine che si mettono tutte dritte, perfette, apposta per indirizzarmi verso la mia strada. Per fortuna che c'è l'autopilot, nel senso, di queste parti in cui devo camminare, perché sennò con queste telecamere tutte sbalzate mi intripperei troppo il cervello. Cioè, sul serio uno dovrebbe camminarsela da sola tutto quanto, e non può correre! Cioè, è quella la cosa. Un maestro del tempo, dicono. Sto coniglio mi sta veramente sulle palle. Ma veramente sulle palle, sto tizio con la maschera coniglio. Ma chi sei? Cioè, almeno poteva avvertirti. Chi cazzo sei? Pretendi delle spiegazioni, cioè, pretendi degli avvertimenti. Questa cosa mi dà... Non so chi sia quello, mi dà... Mi mette ansia. Dai, arriviamo a sto boss. So già che esploderò 3000 volte prima di riuscire a fare effettivamente il boss. Proverà a giocarsela in relax. Facile per lui, ha scelto... Cioè, chi è il coglione che sceglie di andare in prigione? Eh no, non siamo rilassati, ovvio che non siamo rilassati, sto cercando di fuggire. Devo uccidere sto vecchio. Mi dispiace però uccidere un vecchio, cioè, è brutto. Non si fa. Non è modo. Cioè, vi pare il caso? Uccidere un vecchietto che controlla il tempo? Anche se sa molto di Zilean. Dai, cazzo. Quella sfera immagino sia dove sta il vecchio. Continuo a dire sta frase, il carceriere la chiama. Cosa vuol dire? E perché? Perché? Continuo a dirla. Sarà qualcosa di profondamente filosofico e profondo. Profondamente filosofico e profondo. Bravo, Lapo. Vai così, vai così, cazzo. Ok, calma, sangue freddo. Andiamo a picchiare sto vecchio. Vecchio? Vecchio? Ah, quello era il vecchio? Questa specie di astronave? Dove sei? Ah, no, eccolo qua. Ma è stramagro. Non posso picchiare un vecchietto così magro. Cioè, in pratica. Da quando ci sono io. Da quando ci sono io il tizio non riesce più a vedere il futuro. Che cazzo vuol... Che cazzo sta facendo? Cioè, si è messo due scudi attorno, tipo. Ah, io... Ah, ok. In prat... Ok, in pratica devo... Ah, ok. Posso soltanto attraverso... Posso soltanto... Oh, mio Dio. Cioè, in pratica io... Oh, mio Dio. Ma dai, è ridicolo. Come cazzo fai? Dai, come cazzo fai sta roba? Ah! No! Aiuto! Ah! Dai, è impossibile. Come cazzo fai a farlo sto boss? Dai, è impossibile. Come cazzo fai? What the fuck? Come cazzo fai? Dai, è ridicolo. Ah, io non posso proprio entrare dentro. Dai, è impossibile. Come cazzo si fa? Come cazzo fai a considerare così tanti elementi? Ah! Cioè, la cosa è che mi squarta anche dalla distanza, sto figlio di puttana. Vabbè, vabbè. Eh, ho perso un'altra barra dita. Ma mi trolli? Come cazzo si fa? Dai, non posso nemmeno... Ah, proprio così, tranquillo lui. Cioè, io devo continuare a spostarmi e continuare... La cosa è che... Si sposta nel senso anti-orario, quel figlio di puttana. Cioè, non è che io posso semplicemente... Non è... È impossibile! Come cazzo fai? Dai, diventa nonsense dopo un po'. La cosa è che si riguarda... Eh, vabbè. Come cazzo fai? Dai, non può aver senso sta roba. Allora, se... Allora. Se sparo da troppo vicino, ovviamente... Ah! Ah! Vabbè, vabbè, vabbè. Se sparo da troppo vicino, ovviamente la prendo nel culo. Se sto lontano, in teoria, dovrei evitare la maggior parte dei proiettili. Almeno la maggior parte dei proiettili dovrei evitarla. Ok, ok, calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. In teoria, così, nel tempo, comunque, riuscirò a tirare giù le sue difese. E almeno mi permette di difendermi... Ah! No, 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 no. Mi permette di difendermi da quelli grossi che mi arrivano contro. Porca troia, se è difficile, eh, sto boss. Cioè, più che altro, sta cosa è macchinosissima. What the fuck? Quanti cazzo di sfere ci sono sullo schermo? Ah! Eda, gli ho distrutto tutta la prima barriera, di già. Cioè, non torna su. Sembrava che tornasse su prima. Aio, aio. Vedete che comunque posso prendere danni. Che a quanto cazzo durano ste barriere di merda? Oh mio Dio. No, 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 no. Vedete che secondo me tornano su le barriere. Aiuto, 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 aiuto. Oh mio Dio. Ok, ce la posso fare. Ce la posso fare. Ah, cominciano a apparire queste sfere rosse che non so che cosa cazzo siano. Mi immagino che siano... Oh mio Dio. Ok, ok, ok. Carro e sangue freddo. Ho quasi ucciso. Aio. Aio. Aiuto. Ok, devo soltanto stargli lontano. Vedi il tuo futuro. Vedi anche il tuo vecchio di merda. Vaffanculo, stronzo. What the fuck? Con l'esperienza viene la profettiva. Ah, adesso combatti corpo a corpo? Cosa vuol dire? Che cazzo stai facendo, vecchio bastardo? Cosa devo fare? Porca puttana. Aio. Ah. Ok, mi sto rigenerando un po' di vita. Ok, ok, ok. Calma, il sangue freddo ce la posso fare. Uh. Uh. Mamma mia, quanto so forte! Ok, vai così, cazzo. Oh, cazzo. Aio. Aio. Vuol dire? No, eh. Non ti rimetterai su quella pietra di merda. 始mati. Aio. Aio. Ok, siamo ritornati sulla piattaformina del cazzo. Merda. Porca droia. Speravo di aver evitato di nuovo quella piattaformina del cazzo. Ah! Ah! Ok, ok. Calma il sangue freddo. Una sferina verde. Torniamo indietro. Che cazzo vuol dire torniamo indietro? No, 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 no. No, 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 no. Ok. Vai così! Vai, picchi a sto vecchio di merda! Vai, cazzo! Uh! Ok. Aio. Ok, ok. Cazzo. Vai! Vai, picchialo! Sì! Un'altra barra della vita! Aio. Aio. Oh mio Dio. Oh mio Dio! Aio. Porca puttana. Oh, cazzo. No, 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 no. no 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 vecchio di merda porca troia cazzo cazzo no 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 si rigenerato la vita vecchiaccio bastardo siamo tornati punti a capo eh vaffanculo porca troia siamo tornati punti a capo che palle sta cosa sta meccanica è veramente una troiata la meccanica è una palla assoluta merda ho perso un botto di vita prima ancora che si è iniziato vabbè sono morto no 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 manca poco ok io ho tolto la barriera vai danneggia il vecchio cazzo cazzo manca pochissimo no 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 si è rigenerato tutta la vita ho una barra della vita rimasta e lui ne ha ancora due e ricominciamo punti a capo aio porca troia ora devo per forza di cose batterlo a sto giro devo per forza di cose batterlo a sto giro devo per forza di cose batterlo a sto giro per forza di cose batterlo a sto giro devo rifarmi di nuovo tutto no mi rifiuto categoricamente di nuovo ok ma perché non mi ridà la vita perché non mi ridà la vita ci sono camminato sopra vabbè io per rigenerarmi la vita sono morto orca troia togli lo scudo non abbiamo ancora tolto lo scudo no no che palle questa fase è la più difficile questa fase è veramente la più fallosa devo solo essere paziente ma porca ok qua ritorniamo alla fase di combattimento qua vai 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 cazzo ok ah io ho preso danni a caso vai picchia il vecchio picchia il vecchio mmm baby parata perfetta fuck yeah picchia il vecchio picchia vai l'ultima barra ok e muo adesso che cazzo è sta roba che cazzo è sta roba che cazzo è sta roba oh mio dio no 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 che cazzo è sta roba no pure no muttana troia dai è impossibile sta parte ah muori vecchio di merda c'è caggia in questi ultimi preziosi istanti che cazzo vuol dire oh mio dio che cazzo vuol dire aiuto aiuto dai dai no 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 che cazzo è quello ok quindi non posso avvicinare di armi al vecchio praticamente i miei attacchi sono quelli che stanno prendendo ah ok lui crea delle sfere una volta ogni tanto e poi sono anche io che creo le sfere perché ogni volta che uccido uno di questi pilastri ok 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 calma e sangue freddo oh cazzo 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 basta che sto dalla distanza basta che sto dalla distanza devo stare lontano ahio Ok Sono lontanissimo Oh mio Dio Oh mio Dio No 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 Non morire Non morire Non morire Non morire Non morire Non morire Sono quasi arrivato alla fine Basta che distruggo Quell'ultimo pilastro Ho distrutto tutti i pilastri Ma è finito il vecchio Ora Picchialo 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 Baby Oh baby Picchialo Ho vinto Ho vinto Oh mio Dio Ce l'ho fatta Sì Vecchio bastardo Ce l'ho fatta Oh mio Dio Che faticaccia cazzo Almeno Ce l'ho fatta Oddio Forse non ce l'ho fatta Sì Sì Vecchio maledetto Oh mio Dio Che fatica Minchia Zio Sto vecchio bastardo È stata una faticaccia Ciao Coniglio Siamo noi che creiamo il nostro vecchino Buono a sapersi Immaginavo un po' di filosofia spicciola sul tempo Ciao vecchio Perché eri stato inviato da noi What? Guardate il cielo E il puntino sul sole Ma nessuno lo ascoltava Cazzo vuol dire What the fuck What the fuck Comunque ragazzi Io direi che chiediamo qua Questo episodio di Furi Ci vediamo al prossimo Che non so quando sarà Farò Minchia ho fatto una faticaccia Solo per questo È un'ora e mezza che gioco Quindi Ragazzi Ci vediamo al prossimo video Io sono Terenas Bella Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No, 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 no Grazie a tutti.